Questi muri sono fatti in cappellaccio e dunque il materiale e la tecnica usata confermano le fonti scritte per quanto riguarda la datazione al VI secolo. Qualcuno però pensa che il basamento che vediamo non fosse il podio del tempio, ma piuttosto una platea sulla quale si ergeva il tempio con il suo podio, più piccolo di questa platea, e l'altare antistante. Infatti gli altari sui quali si svolgevano le cerimonie e i sacrifici erano posti fuori dai templi. Per quanto riguarda la tipologia della pianta, esso risulta il più grande tempio tuscanico, anzi è meglio dire etrusco-italico, d'età arcaica che ci sia noto, ma è anche periptero sine postico. Mi spiego meglio. Vitruvio, che come sapete è un architetto e scrittore contemporaneo ad Augusto e ha scritto per lui un importantissimo trattato, che è il De Architettura, preso in considerazione moltissime volte nel corso dei secoli, ci ha lasciato tra le altre cose una descrizione del tempio tuscanico. Oggi però si tende a chiamare tuscanico solo il tipo di pianta teorizzata da Vitruvio, ed etrusco-italico il tipo di templi che sono venuti effettivamente alla luce e che presentano affinità con la tipologia tuscanica. Secondo Vitruvio, il tempio tuscanico era quasi quadrato e diviso in due parti di uguale profondità, la parte antica, cioè quella davanti, aperta e colonnata, e la parte postica, quella posteriore, che ospitava tre celle affiancate, quella centrale leggermente più grande e le due laterali uguali, che in larghezza occupavano tutto lo spazio dell'edificio, oppure poteva esserci una cella centrale e due ambienti laterali aperti frontalmente che potevano anche essere più lunghi della cella e arrivare a chiudere i lati del pronao, quindi fino a qui. E questo era il tipo adale. Le colonne erano disposte in asse con i muri delle celle o delle ante, ed erano quindi otto in due file da quattro. Se invece osserviamo la pianta ricostruttiva del Tempio di Giove Capitolino, notiamo che le tre celle non occupano tutto lo spazio, vedete, si fermano qui, e che c'è un colonnato anche sui lati lunghi, quindi questo qua e questo qua. Questa è la caratteristica del periptero, ed è sine postico, cioè non ha il colonnato posteriore, il lato di fondo è chiuso. Questo è molto comune nei Templi Romani, poiché sono concepiti con la frontalità, è per questo che il lato posteriore viene chiuso, a differenza dei Templi Greci che sono concepiti a 360 gradi, dunque si può passare sia sul retro che sul davanti. Inoltre, tra la facciata e le celle, c'erano tre file di colonne, uno, due e tre, per sostenere le travi del pronao che era lunghissimo. Sappiamo dalle fonti che la cella centrale era dedicata a Giove Ottimo Massimo, quella di sinistra a Giunone Regina e quella di destra a Minerva. Ecco la ricostruzione dell'alzato, esso si presenta come nella descrizione del Tempio Tuscanico di Vitruvio, cioè tozzo, basso e largo, con il tetto che sporgeva i lati per proteggere l'edificio dalle intemperie. Sappiamo che in alto, qui, c'era un grande acroterio, una quadriga in terracotta con Giove, e di terracotta erano anche le statue di culto poste nelle celle. Tutta questa decorazione in terracotta fu realizzata dall'artista Vulca, proveniente dalla città Etruscaveio, come ci fa sapere Plinio il Vecchio nella storia naturale. Nel 296 a.C. la quadriga in terracotta fu sostituita con una in bronzo. Dell'alzato resta solo una tegola di pinta che è conservata nei musei capitolini. Il Tempio fu distrutto più volte dagli incendi che colpirò nel Campidoglio. Dopo quello dell'83 a.C. la ricostruzione fu dovuta ad un partigiano di Silla, Lutazio Catulo. Per chi non ricorda la storia romana, Silla è il dittatore in carica dall'82 al 79 a.C. Sappiamo che per la ricostruzione Silla fece portare le colonne di marmo dal Tempio di Zeus Olimpico ad Atene, quindi sarebbe stata una ricostruzione in marmo. Però fu una ricostruzione lenta e le statue di culto furono terminate nel 65 a.C. Lo scultore era atenese e si chiamava Apollonios, e potrebbe essere lo stesso Apollonios che ha firmato il famoso Torso del Belvedere. La statua di Giove era Criso Elefantina, cioè d'avorio e d'oro. Queste sono foto fatte all'interno dei musei capitolini, nella sala dove è il Tempio. Nella foto in alto a sinistra vedete il modellino. Le altre due mostrano la muratura in cappellaccio sopravvissuta, inglobata all'interno del museo. Bene, per oggi è tutto. Continueremo a parlare del Campidoglio nella prossima lezione e vedremo anche qualcosa di inerente alla storia dell'arte romana. Per approfondimenti, rimando alla bibliografia che ho utilizzato per studiare. Grazie per l'attenzione.